Amici del Bardo, anche oggi sono qui con gli sbosti di Magic dell'era della rovina, la nuova espansione appena uscita. Non conoscete Magic, il miglior gioco al mondo? Nessuna paura. Qua sotto, nella descrizione del video, trovate tutte le istruzioni per localizzare il negozio Magic più vicino a casa vostra. Se ci andate, proprio come vi ho scritto, vi regalano un mazzo per principianti e vi insegnano a giocare. E quando è finito tutto, quel mazzo, quelle carte, ve le portate a casa, sono vostre, gratis, senza spendere una lira. È il modo più semplice, più facile, più economico per scoprire questo gioco. Se ci andate con un amico, regalano quel mazzo anche a lui e potete allenarvi a casa l'uno contro l'altro perché sono mazzi molto equilibrati. Ce ne sono di cinque tipi diversi, quindi potete scegliere a fiuto quello che più vi aggrada a seconda del vostro stile di gioco. Poi se volete diventare un po' più competitivi, se volete fare i tornei o se volete partecipare anche alle sfide meno competitive, più amicali, che si svolgono con alta frequenza nei negozi Magic dove si può giocare sempre gratuitamente, a meno che non ci sia un torneo specifico, beh a quel punto vi equipaggiate con le bustine. Ogni bustina contiene 15 carte, a volte 16 se sei molto fortunato, se ce n'è una foil, ovvero brillucicante. C'è sempre almeno una rara che può anche essere mitica, quindi addirittura superiore come potenza e come valore collezionistico. Ci sono sempre tre non comuni e tutto il resto sono carte comuni. Ora apriamo quattro pacchetti e io vi mostro le carte rare commentandole. Io sono un giocatore di standard che è il formato che comprende solo le ultime espansioni e quindi le commento in ottica standard, che è il formato che conosco. Vediamo un po' cosa salta fuori dalla prima bustina. E la carta rara è... fantastico. L'era della rovina. La carta che dà il nome all'espansione. Questa è una carta fortissima. Io ne voglio quattro, otto, sedici. È una carta che verrà usata per anni. Un anno e mezzo almeno, credo. Cioè, veramente è forte. Io l'ho provata sul campo. Fa i disastri. Se non ce l'avete procuratevele subito. Questa carta qua, credetemi, è destinata ad essere voluta, desiderata, ricercata da tutti. Cosa fa? Costa 5. È rossa. 3 dal colore che volete, più 2 rossi. Cosa fa? Tutte le creature perdono indistruttibile. fino alla fine del turno. E l'era della rovina infligge 5, 5 danni a ogni creatura e ogni planeswalker che non sia un planeswalker Bolas. Praticamente fa quasi tabula rasa di tutte le creature che sono sul campo di battaglia. Beh, qualcuna magari può sopravvivere, ma è un bel problema per l'avversario, soprattutto se ha giocato quasi tutte le sue carte, quasi tutte le sue creature e vengono spazzate via da una cosa così. Date retta al bardo questa carta. Se giocate rosso, se vi piace lo stile di gioco rosso, se avete appena iniziato a giocare, se la trovate non scambiatela, ok? Tenetela lì, pensateci bene e cercate di metterla nei vostri mazzi, soprattutto poi di usarla in maniera intelligente. Questa è una delle carte più forti dell'espansione. Si chiama praticamente proprio come l'espansione. vedete, l'era della rovina e era della rovina. E la cosa dovrebbe suggerirvi qualcosa, no? Seconda bustina, ma la prima è difficile fare meglio, eh? Quindi, cara la mia bustina, adesso tu hai un po' di pressione sulle spalle, è un po' come entrare nel ring con Goldberg, John Cena, Battista e Randy Orton, tutti assieme. Riesci a fare meglio? Beh, intanto mi regali una carta foil, quelle sbrillucicanti che vi dicevo. È una non comune, la sconfitta di Liliana, ve la faccio vedere, perché queste carte sono inserite casualmente e hanno un valore collezionistico leggermente più alto della controparte che non sbrilluccica. Questa è una non comune, quindi non ha un costo collezionistico mostruoso, però comunque è una carta piacevole da avere. È una bella Utilities, dal costo di lancio molto molto contenuto, che ha un effetto contro le creature Planswalker nere, è pesante perché le distrugge. E abbiamo anche un'ottima terra, io volevo altre terre così e questa proprio serve al mio stile di gioco. Perché? Perché questa terra qua è un po' una palla al piede per chi in standard prepara dei mazzi basati sul fatto che ci siano creature che tornano dal cimitero. Cosa fa? È un deserto. Beh, ti dà male in colore, quindi non ti aiuta a castare le tue magie, le tue creature, ovvero ti aiuta a pagare ad esempio questo che ha bisogno del nero, ti dà un mana in colore che può essere uno dei tre dell'era della rovina. Però se paghi due mana del colore che vuoi e sacrifici un deserto, eventualmente anche lei esili tutte le carte presenti nei cimiteri. Quindi se il mio avversario ha creato un mazzo strategico basato sul ributtare le carte dal cimitero sul campo di battaglia, io esilio tutte le carte nei cimiteri e lui quella strategia non può più attuarla o comunque gliela rallenta parecchio. Ho spostato anche un'altra carta perché c'era una terra full art, non foil, peccato, ma full art che sono le più belle, le più affascinanti, a me piace collezionarle, quindi la metto qui tra quelle da inserire nel mio albo raccolta. Abbiamo ancora due bustine oggi, mi sento fortunato, quindi apriamo la penultima. Ok, vediamo un po' cosa c'è dentro. Oh! Bene, bene, questa va in combo col mazzo che voglio fare. Prima c'era l'era della rovina, adesso l'era della promessa. Io questa la sto usando, in standard fai disastri. La gente la sta sottovalutando, eh. Poi magari nel mentre, da quando ho girato il video, quando lo pubblico, magari la situazione è cambiata. Però io fossi in voi, cercherei di trovare, racimolare questa carta qua. Questa cinque, di cui uno verde, cosa fa? Quando la giochi, passi in rassegna il tuo grimorio, il tuo mazzo, per trovare fino a due carte terra e le metti sul campo di battaglia tappate. Attenzione, due carte terra non dice terre base, dice terra qualsiasi, quindi se fate un mazzo rampo potete mettere terre che vi aiutano a rampare. Se siete in difficoltà e avete già un deserto in campo, potete prendere ad esempio due deserti. Perché? Perché dopo che hai fatto quello che dice la carta, ovvero preso due carte terra e messe sul campo di battaglia tappate, se controlli tre o più deserti, crei due pedine, due due zombie nere, che comunque sono una discreta difesa. Avete aumentato le vostre terre in campo, quindi potete giocare il turno dopo magari magie che hanno costi di lancio ancora più alti, e intanto hai messo giù due pedine zombie che ti aiutano a difenderti dagli attacchi dell'avversario. Chiaro, non sono pedine mostruose, non sono due colossi, però sono comunque due paranti, due difensori che non fa male, almeno per quel turno. Poi potrebbero diventare attaccanti se l'avversario è in difficoltà. Quindi l'era della promessa più l'era della rovina. A me questa combo fa impazzire. Io la gioco, io la gioco. Ce l'ho nel mio mazzo standard, sto usando proprio un mazzo di mia creazione con queste due ramp, quindi che cerca di giocare mostri, gioco gli aldrazi, gioca un sacco di robe, non vince sempre chiaramente la mia creazione, però si sta ben comportando. Ultima bustina del giorno, eccola qua. Oggi comunque, che sbusto, eh? Mettiamo la ciliegina sulla torta? Non lo so. È un'altra carta rossa. Eterno dell'incendio indomabile. Sono un po' scettico su questa carta, io devo dirvi la verità. È un 1-4 con affliggere 4. Ogni volta che viene bloccata, il giocatore in difesa perde 4 punti vita. Quindi uno dice non la blocco, perché perderne 4 quando ne perdo solo uno se la lascio passare. Beh, ogni qualvolta però lui attacca e non viene bloccato, posso lanciare una carta istantanea o stregoneria dalla mia mano senza pagarne il costo di mana. Quindi poniamo che io abbia questa, lui non viene bloccato, la gioco senza pagare 5. Potrebbe essere un qualcosa che mi aiuta a lanciare queste stregonerie qua. Però bisogna farci uno studio particolare. Io al momento questa, chiamiamola mini combo, non l'ho ancora messa nel radar e non so quanto possa funzionare. Però vedete il bello di Magic è questo, tu prendi delle carte, inizi a pensarci, dici vabbè ok, for fun può essere una cosa che mi alletta a giocare, ma proviamo allora a crearla. Poi magari se funziona bene la porti anche nei tornei quelli importanti, quelli pesanti. Se non funziona fai tre risate con gli amici mentre giochi parti dal calciomercato, del festival rock che c'è nel paese vicino il giorno dopo, del gioco in scatola che è appena uscito che vuoi comprare, delle vacanze, come stanno andando. Io ovviamente spesso vengo interrogato sul wrestling visto che è il mio lavoro, sui robot, avete visto che sto facendo anche le battaglie tra robot, su blaze, quindi Magic diventa un metodo per socializzare. Poi se ti inventi qualcosa che ha successo magari lo porti ai tornei e vince anche un sacco di carte, di premi e di cose aggiuntive. Va bene, vi ho detto tutto, oggi è stato uno sbusto straordinario, per me è uno dei migliori. Vi rinnovo l'invito a scoprire Magic, se già non lo conoscete, qua sotto nella descrizione del video ci sono tutte le istruzioni, ok? Se non capite qualcosa delle istruzioni chiedete, prima o poi arrivo io o arriva qualcun altro a darvi risposta. Per ora grazie dell'ascolto, della pazienza e al prossimo sbusto.